Amore Tossico è un film del 1983 diretto da Claudio Caligari. Allora, metto subito in chiaro, io personalmente non conoscevo Caligari, minimamente, però negli ultimi anni, a furia di andare a cercare su internet cose, soprattutto sui film, e andando a vedere anche, sentire recensioni di altra gente che segue ogni tanto, soprattutto di film che ho visto, o magari delle interviste lunghe in cui si spazia molto, si va a valutare filmografie, opere vari, dei vari attori o registi di turno, mi è capitato di sentire citare questo regista, questo regista che apparentemente è stato così apprezzato, ma che personalmente mi ero completamente perso, tra i tanti che mi sono persi del cinema italiano in realtà, e allora ho deciso di recuperarmi di questo film. Amore Tossico è il primo film di Claudio Caligari, un regista che è venuto a mancare nel maggio 2015, e che ha fondamentalmente fatto soltanto tre lungometraggi, Amore Tossico, Lodori della Notte e Non Essere Cattivo, rispettivamente nel 1983, 1998 e 2015, quindi c'è ancora una discreta distanza fra uno e l'altro. Caligari veniva da un'esperienza come regista di documentare comunque, e questo si vede, questo si vede in questo film che in realtà dà la sensazione di non essere un film, ma di essere praticamente un docu-fiction, e per certi versi lo è. Questo film che potrebbe essere considerato un film neorealista, perché sfrutta attori che realmente, o per la maggior parte, sono i personaggi che ci vengono mostrati, pardon, non attori anzi, non attori, perché i personaggi che ci vengono mostrati sono effettivamente quelle persone, quel Cesare, quella Michela, quel Enzo, quel Roberto, quella Loredana, sono tutte persone che non erano attori professionisti e hanno interpretato un ruolo basandosi sulla loro esperienza pregressa o di quel momento sulla propria tossicodipendenza. Amore Tossico è un film assolutamente, immagino, credo a questo punto dopo averlo visto tutto, volutamente, sgraziato, a tratti disgustoso, inquietante, dolorosissimo, e che turba profondamente il mio spirito, che mi ha turbato profondamente mentre lo guardavo. Credo che funzioni assolutamente, credo che sia un ottimo film, credo che sia uno di quei film che per certi versi andrebbe, con tutte le dovute precauzioni, mostrato nelle scuole, mostrato in giro per mostrare l'orrore della droga. Droga che, soprattutto con il tema centrale della dipendenza dell'eroina, afflisse molti giovani negli anni Ottanta, perché, seguendo un pochettino qualche cosa che ho cercato su internet, ho scoperto che sembra che noi in Italia fossimo relativamente in ritardo con l'utilizzo delle droghe a livello massivo in larga popolazione, per capirci al contrario magari degli Stati Uniti, e quindi fondamentalmente sono cominciate a circolare nei bassi fondi, fondamentalmente nelle parti più economicamente più deboli, nelle parti più, diciamo, meno benestanti della, in questo caso, della zona di Ostia-Roma, e ha portato veramente rovina, rovina nelle vite di questi attori fondamentalmente, di queste persone, e di tutta una probabilmente grande fetta di popolazione. È stato duro vedere questo film, è stato duro vedere questo film, ripeto, sgraziato, grezzo, probabilmente anche perché forse era la prima opera, lungometraggio, diciamo, di fiction del regista, quindi magari il budget non era chissà che cosa, o magari è stato voluto questa resa estetica così grezza per esasperare ancora di più il contesto di povertà fondamentalmente, una povertà profonda nel senso non soltanto economica, ma nel cuore dei protagonisti fondamentalmente, che non riescono a fare a meno di questa dannata sostanza, non riescono a fare a meno di provarle tutte per cercare fondamentalmente, che cosa? Di tirare fino alla dose dopo. Io ho visto veramente pochi, in realtà, film o serie tv che hanno trattato l'argomento, non posso non citare Trainspotting, ovviamente, però in realtà il tono generale, a un certo punto, è cambiato in realtà in Trainspotting. E se vogliamo parlare di dipendenze in generale, o comunque di situazioni problematiche, se non di dipendenze vere e proprie, posso citare magari Fino all'osso, un film Netflix che avevo visto tempo fa e che trattava invece il problema, diciamo, fisico e psicologico legato all'anoressia, quindi comunque un circolo vizioso, forse al pari come una droga, chissà, che anche lì può essere assolutamente devastante per i diretti interessati e per coloro che gli stanno intorno. Angoscioso, angoscioso e angosciante durante la visione di questo film che ho detto e quindi grazie a questo, secondo me, è assolutamente riuscito. Sono rimasto piacevolmente colpito della capacità di mostrare una cosa in maniera così efficace e, come ho già detto, sono rimasto anche discretamente disturbato. Questo film ha avuto dei riconoscimenti anche a Venezia, premio speciale al Festival di Venezia come opera prima, fondamentalmente, e ci sta assolutamente. Sono contento di aver scoperto questo regista, spero che anche gli altri due film lungometraggi che ha fatto mi piacciano e spero che siano possibilmente un pochettino meno disturbanti e, purtroppo, spero che il problema della droga e delle dipendenze in generale sia sempre, diciamo, meno diffuso fondamentalmente fra le persone, soprattutto, se vogliamo, in quelle parti di popolazione che magari sono meno abbienti e cercano disperatamente di fuggire dai propri problemi, rifugiandosi in qualcosa che in realtà è come un cane che si morde la coda, è un continuo dare qualcosa solo non per risolvere un problema ma per far arrivare soltanto alla prossima volta in cui verrà data, nella fattispecie, una siringa tira l'altra, mamma mia che angoscia. Volete rimanere, non affascinati, ma vorrete rimanere turbati da una visione di un film e volete un buon motivo per non drogarvi? Guardate questo film.